12 ore di marcia, sono quasi fuori da Schindler Lake, ho una fame, una sete, una botaccia l'ho finita, l'altra mi si è ghiacciata, e però mancheranno 5 km alle, per checkpoint, sfatto, sfatto, ma voglio arrivare al checkpoint per capire dove stanno gli altri, e decidere il Darabsi, la strategia degli ultimi 70 miglia. Ci siamo in Itasport 2019. Grazie per la visione!